Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11, 3 km di coda per verità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e il Vivio con la 1, tutto verso Firenze. I scipili restano code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci, in carreggiato opposto rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci. Ricordiamo che per quest'oggi è previsto uno sciopero generale di 24 ore che interessa tutto il trasporto pubblico a Torina Toscana e garantisce il servizio, oltre alla prima fascia mattutina tra le 12.30 e le 14.29. Per quanto riguarda Trenitalia, le fasce di garanzia vanno avanti questa mattina fino alle 9 e questa sera dalle 18 alle 21. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze per mezzo pesante e impanne, si registrano rallentamenti in via del San Sovino in direzione ingresso città. Buonasera di Toscana Info, servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!